...organizzato dalla METAP, l'ex magistrato, candidato alle prossime elezioni europee, ha discusso insieme con Govore Bussa dell'IRS di informazione e legalità. Per noi ce l'ha Anna Diacosso. Informazione e legalità. A parlarne questa mattina nel dibattito organizzato da METAP di Nuro è stato l'ex magistrato Luigi De Magistris, candidato alle prossime elezioni europee. Sono stato un eccellente pubblico ministero finché mi sono occupato di obicini, poi mi sono occupato di finanziamenti comunitari e meccanismi interni alle istituzioni. A quel punto non sono più stato messo nelle condizioni di lavorare. Al dibattito che si è svolto all'Eurotel ha partecipato anche Govore Bussa dell'IRS che si è soffermato sulla difficoltà per un partito indipendentista che si sta imponendo sullo scenario politico sardo di trovare spazio nella stampa locale e evidentemente ha detto Bussa le nostre tematiche sono scomode per qualcuno. Quello di IRS, Italia dei Valori, mi tappe un modo nuovo di fare politica. Stiamo assistendo alla fine del sistema castale della politica detto con forza De Magistris, politica che stava divisa nei saluti della TV e insieme negli affari e nella gestione delle risorse. Ecco perché secondo l'ex magistrato il tema oggi è tutto politico e per la stessa ragione il sistema va disintegrato perché è totalmente inquinato. Per far questo occorrono persone capaci che nel caso specifico devono saper gestire le risorse europee ma soprattutto come ha condolizzato De Magistris in politica c'è bisogno di onestà.